Dalla città che ho, di che ti ha fatto staccare il biglietto per l'Ariston, il mostro con cui sei in gara. Questo tratto di percorso com'è stato? Com'è? Visto che c'è stato di mezzo anche la chiusura di un disco. Sì, allora, questo tratto di percorso è stato bellissimo perché ho raccolto, diciamo, comunque i semi che avevo raccolto e che avevo, scusa, non mi viene il termine, che avevo piantato e che ho raccolto con la vittoria di Sanremo Giovani e comunque mi sto, cioè, sempre in continuo movimento, sempre in continuo, ha messa la prova perché sto preparando un Sanremo big assieme ad artisti giganti. Quindi, estremamente grato e preso bene da questa cosa. Per i festival, o meglio, la partecipazione a festival, quando entra un po' nei tuoi orizzonti artistici e che peso specifico ha in questo momento del percorso? Allora, ti dico, entra, penso, quando un po' tutti i giovani hanno cominciato ad avvicinarsi al festival. Cioè, non ho mai seguito troppo Sanremo, a parte negli ultimi 4-5 anni, in cui c'è stato effettivamente il cambio da Mahmood circa. e lì, ecco, quando ho cominciato a vedere i giovani che si approcciavano al festival, che si presentavano al festival, eccetera, da quando è arrivato a Amadeus, ho detto, io già facevo musica e ho detto, ok, quella cosa io la devo fare, devo passare per quella cosa e sarà, ed è una cosa importante, nel senso, il palcoscenico più importante in Italia. Quindi, ecco, siamo qua ora. Questo mostro, noi, diciamo, sentiamo spesso parlare o cantare dei mostri che si hanno dentro, tu invece fai in qualche modo un altro passaggio, cioè, sei tu che ti senti o temi di essere diventato mostro? Sì. Quando l'hai incontrato, l'hai visto nello specchio la prima volta? Ma, diciamo che è successo quest'anno, e quando ho scritto questo brano, cioè, l'ho scritto circa giugno del 2022, scusa, quest'anno, l'anno scorso, e, insomma, sì, cominciava la mia vita, aveva, era cambiata molto, è cambiata molto nell'ultimo anno, mi sono trasferito a Milano da solo, e questa cosa mi ha fatto un po' andare su di giri la testa e pensare tanto. Tra questi pensieri, diciamo che c'è stato quello di essere, aver tralasciato delle cose importanti in quest'ultimo anno, che realmente importanti per me stesso, per la musica, che comunque ho fatto bene. Però mi è venuto questo pensiero, diciamo. Questo, diciamo, scollamento dalle cose importanti, dagli affetti, proprio anche abitudini, probabilmente pre-esperienze, talent, televisione, musicali, corrisponde poi anche a un disorientamento, forse che è anche di generazionale, cioè tu hai avuto, diciamo, il carico da 40. Sì. Tu senti la generazione tua, gli amici, questo senso un po' di sentirsi correre troppo attorno e quindi avrei bisogno in realtà di fermarsi per ritrovare un po'. Sì, 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 assolutamente, lo sento, sento questo un po' disagio, cioè ne soffriamo, secondo me, noi, la mia generazione ne soffre di questa cosa. È difficile per noi giovani, più che per i giovani di una volta, secondo me, da quello anche che mi dicono magari i miei genitori. Però, sì, ecco, cioè l'importante, cioè il lavoro che faccio è comunque dire non sei da solo, tu che mi ascolti con le cuffiette mentre il mondo attorno succede il disastro e c'hai la mia età, non sei da solo, siamo, stiamo uniti, ecco. Il tuo bussolo adesso, la rotta ritrovata un po' al nord, il baricentro, ci stai lavorando? No, cioè nel senso io sono tranquillo sul fatto che non sono una persona equilibrata e non troverò mai un equilibrio e sono tranquillo per questo. Questo è un punto saldo? Sì, questo è un punto saldo, infatti. Il mostro fa parte dell'album omonimo che esce in un'occasione di Sanremo. Insieme alle altre tracce, che ritratto disegna dell'artista e del ragazzo che sei oggi? Guarda, devo dire che tutte le tracce disegnano me stesso e appunto tutte nello specifico sotto determinati punti di vista. Ci sono parti più colorate, ci sono parti più scure. Mostro il brano di Sanremo, ad esempio, è quello che è un po' il manifesto di tutto questo album, di tutte queste tracce. Infatti sta anche all'inizio del disco perché rappresenta un po' tutto. Poi comunque le tracce sono un mondo a parte, ogni traccia ha un mondo a parte. Però diciamo che si parla di solitudine in questo disco, di quello che ho pensato quest'anno e con tutti i suoi lati negativi e tutti i suoi aspetti positivi. Però sì, principalmente me stesso e la solitudine e i miei rapporti. Prima faceva riferimento al trasferimento su Milano, sei originario Vicentino, che è un'area che ci sta regalando comunque penne e voci importanti in una strada di questi anni. Quindi ti chiedo che rapporto hai con Vicenza, considerando che in realtà un po' tutta l'Italia, ma soprattutto il bacino centro settentrionale sul piano discografico, un po' subisce la, diciamo, Milano Caputmundi. Beh, diciamo che a Milano c'è tutta l'industria. Io sono venuto qua per questo, se no sarei probabilmente stato anch'io a Roma o in un posto col sole. Però devo dire che... Devo dire che mi sono perso. Che... Cosa penso di Vicenza? E... Vicenza... Sono contentissimo di venire da Vicenza. È una provincia italiana. E nel senso... Forse ecco, venire da una metropoli non mi avrebbe aiutato più di tanto, perché comunque... L'Italia è provincia e io parlo ai provinciali, nel senso... Quando sono arrivato a Milano non mi trovavo molto con i milanesi. E... E loro erano affascinati da me proprio per il fatto che io fossi provinciale. Ricordo di questa cosa due, tre anni fa. Però ecco, mi ha cresciuto Vicenza e è stato giusto staccarsi a una certa, perché comunque non... non dà molte possibilità sotto il punto di vista musicale. Senti, allora, visto che è stato sciolto il riservo sui duetti, racconti la scelta, insomma, di Manolo Neri, che Gianmaria ascolteremo in quella sera. Sì. Io sono mega fan del rock, degli after hours, del rock italiano in generale, ma principalmente loro. E... E ecco, quando abbiamo saputo di essere tra i big e ci hanno detto di preparare la cover, abbiamo provato a chiamare Manuel perché ci è venuto in mente lui e... ovviamente non avendo minime aspettative, già provando a tirare giù, provando ad accontentarci, pensando ad altri artisti, così, però per fortuna lui ci ha detto... ci ha detto di sì. E... io gli ho chiesto di fare un brano suo, degli after, e... alla fine, tra le proposte, che... tra le idee che ci avevo, abbiamo deciso assieme io e lui quello che non c'è, che... appunto, cioè, noi abbiamo fatto una... la prima versione che abbiamo fatto è andata bene, ma se ne potevano fare altre 50, da quanto il brano è... è... è ricco di significati. Rispetto al cast con cui condividi, l'Arison, quest'anno, c'è qualcuno che fa parte dei tuoi ascolti che ti incuriosisce di più vedere anche come è la performance? Beh, allora, c'è... c'è Con la pesce di Martino, che mi piacciono tantissimo, li... li seguo da... da prima anche dell'altro festival, poi c'è Madame, che siamo amici, ma... per me musicalmente è incredibile. La mia... la cosa... la cosa più strana che mi ascolto di questo festival è Eludi, che mi fa impazzire a me, musicalmente proprio. E Levante pure, mi piace tantissimo. Basta. Credo basta. Sì, un po' con questi. E dopo Sanremo cosa ci sarà? Dopo Sanremo, per il momento, ci sarà un tour e faremo il resto dell'anno in tour. Probabilmente uscirà... Cioè, anzi, sicuramente usciranno altri dischi, altri singoli dischi, con calma. E... questo. Insomma, carriera da... da musicista, da cantante, speriamo che duri il più possibile. L'augurio per questo festival che ti fai? L'augurio che mi faccio è... divertiti, mi raccomando. Devo divertirmi, assolutamente. E... niente, devi restare concentrato. A focus, a fuoco. grazie. Grazie a te. Grazie a te.